Cosa è un sistema di conduzione cardiaca? Il sistema di conduzione cardiaca propaga l'attività elettrica attraverso i muscoli del cuore che pompano il sangue. È organizzato dall'attività spontanea del pacemaker del nodo seno-atriale, SAN, che invia impulsi ad altre fibre cardiache che li trasmettono da una cellula all'altra. Tutto il muscolo cardiaco, chiamato miocita cardiaco, è elettricamente eccitabile e risponde agli impulsi della SAN. Le fasi del rilassamento e della contrazione del cuore hanno tutti profili elettrici specifici che sono rappresentati graficamente dall'elettrocardiogramma, elettrocardiogramma. Il muscolo cardiaco è innervato dai neuroni del sistema nervoso autonomo, in particolare dal nervo vago. I miociti cardiaci, come i neuroni, comunicano tra loro attraverso segnali elettrici chiamati potenziali d'azione. Un battito cardiaco è un ciclo nel sistema di conduzione cardiaca che provoca il rilassamento e la contrazione delle camere cardiache. Per ogni battito del cuore, la stimolazione elettrica apre i canali ionici nella membrana della cellula, permettendo agli ioni positivamente caricati di depolarizzare la cellula, innescando un potenziale d'azione. Un altro insieme di canali ionici depolarizza la cellula con un afflusso di potassio, seguendo un breve periodo chiamato lo stato di riposo. Nella parete dell'atrio destro del cuore, il nodo seno-atriale regola la frequenza cardiaca inviando impulsi elettrici ai miociti cardiaci. Il SAM è chiamato il PaceMaker poiché regola il sistema di conduzione cardiaca attraverso le cellule che sparano ad intervalli stimolati. A volte segnali diretti dal sistema nervoso autonomo o picchi ormonali cambiano il ritmo della segnalazione durante l'esercizio e lo stress. Mentre tutti i miociti cardiaci trasmettono l'attività elettrica, le cellule di PaceMaking del nodo seno-atriale producono attivamente impulsi sincronizzati e spontanei. Gli impulsi della SAM viaggiano verso il nodo atrio-ventricolare, il punto in cui inizia l'ulteriore conduzione attraverso il cuore. C'è un breve ritardo qui tra le contrazioni in modo che il sangue negli atri sfocia nei ventricoli. Il sistema di conduzione cardiaca utilizza fibre di conduzione in bundle per trasportare i segnali della SAM attraverso il cuore. Gli atri di destra e di sinistra si contraggono per primi quando la corrente si diffonde ai ventricoli, che depolarizzano in seguito. L'intera sequenza di depolarizzazione per un battito cardiaco dura meno di un terzo di secondo. I segnali elettrici del sistema di conduzione cardiaca sono misurati da un elettrocardiogramma che traccia l'attività del miocita come un'onda su un grafico. I segnali che passano attraverso gli atri sinistro e destro appaiono sull'elettrocardiogramma come l'onda P, mentre l'attività del nodo seno-atriale è rappresentata dal segmento PR. L'onda QRS dell'elettrocardiogramma corrisponde alla depolarizzazione dei ventricoli, mentre la sua onda ti indica la loro depolarizzazione. Molti disturbi del sistema di conduzione cardiaca, chiamate aritmie, producono irregolari pattern ondulatori che possono essere osservati sull'elettrocardiogramma. Per questo motivo, alcuni disturbi cardiaci sono denominati in base alle loro letture elettrocardiografiche normali.